Salve a tutti amici, come state? Spero tutto bene, anzi tutto benissimo. Oggi siamo qui sempre insieme con un video secondo me molto, molto, molto carino e soprattutto molto, molto, molto particolare. Lo so che ormai lo sto dicendo di quasi tutti i miei ultimi video, ma è vero, anche questo è particolare, differente dal mio solito. Sapete che mi piace poter portare sul mio canale sempre qualcosa di diverso, sia per me e anche per voi. Poter affrontare più temi, più cose possibili. Questa volta andremo ad affrontare un qualcosa di particolare per quanto riguarda la persona. Andremo a fare insieme una respirazione. Proveremo, insomma, a rilassarci respirando. Questa respirazione può essere utilizzata anche e soprattutto, potrei dire, in momenti di ansia, in momenti di stress. Momenti un pochino più difficili, un pochino più pesanti, in cui abbiamo la testa completamente annebbiata e in cui non vediamo più nessuna direzione giusta. In quel momento possiamo, dobbiamo fermarci qualche minuto e dire, ecco, aspetta, io non vedo più la via. Ma non vuol dire che la via non ci sia più, vuol dire semplicemente che in quel momento c'è troppa nebbia per poterla vedere chiaramente. Allora io cosa faccio quando c'è troppa nebbia? Provo ad accendere una luce. Cosa faccio quando ho completamente buio? Accendo una luce. E così facciamo con la nostra respirazione. Questa respirazione ci aiuta, soprattutto, mi piace sottolinearlo, per schiarirci le idee. Devi prenderti 5 minuti di tempo, esattamente 5 minuti di tempo, per sederti, fermarti in un posto tranquillo dove tu possa chiudere gli occhi e fare la respirazione. Quindi insieme oggi proveremo a fare questa cosa e la respirazione è molto, molto, molto importante perché appunto, come vi dicevo prima, ci illumina, ci permette di aprire la mente quando è completamente annebbiata. Io mi scuso già se il mio naso potrà fare rumori strani, ma ragazzi purtroppo è un naso, essendo un naso può fare qualche rumore, però proviamoci comunque. Ecco, allora, mi sono messo oggi anche questa collana, questo smeraldo verde acceso, che sembra un po' una luce, utilizziamo un po' come luce. Allora, questa respirazione sarà un inspira, ti fermi, trattieni il respiro qualche secondo e poi espiri, butti fuori con la bocca. Naso, ferma, bocca, naso, ferma, bocca, naso, ferma, bocca, naso, ferma, bocca, proviamo così, proviamo, proviamo. Grazie. 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 Abbiamo finito amici. Come avete potuto notare abbiamo fatto cinque minuti abbondanti perché è sempre meglio fare di più. perché poi dopo è una cosa che il tuo corpo ti fa fare, il tuo corpo ti richiama e ti dice, continua, fallo ancora una volta, ancora, 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 sentirete, se mai avrete piacere di farlo, che il vostro corpo richiama questa respirazione, appunto perché si sente molto più rilassato, avete visto che ogni tanto mi sistemavo appunto perché il vostro corpo si sente già molto, molto, molto più rilassato, questa è una respirazione che io dovrei fare molte, molte, molte volte al giorno, ho comunque appena alzato a metà mattina e prima di andare a dormire, ma come vi dicevo, purtroppo faccio pochissime volte, però oggi avevo voglia di farla insieme a voi, sono stato molto, molto, molto contento di averla fatta insieme a voi, apposta non taglierò la parte della respirazione, anche se ci potranno essere qualche rumore di sottofondo esterno, ma apposta non l'ho voluto tagliare, non lo voglio tagliare, per non andare a rompere il cerchio che stavamo creando insieme durante la respirazione, questa respirazione vi serve come luce, vi serve per aprire la porta del vostro cervello, nel momento in cui questa sembra chiusa con mille catenacci, di cui voi non avete neanche una chiave, invece voi le chiavi di questo portone le avete tutte, semplicemente vi siete dimenticati dove sono, semplicemente ci siamo dimenticati dove sono, ma sono tutte lì a nostra disposizione, basta semplicemente aprire l'armadio giusto, invece di aprire l'armadio noi stiamo cercando in alto, invece no, è tutto qua davanti a noi, con calma, con il tempo, ce la facciamo, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero di esservi stato anche solo pochissimamente utile e noi ci rivediamo molto 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 presto, ciao amici!